Ancora una doccia fredda per i lavoratori della FIMER di Terra Nuova Bracciolini, azienda produttrice di inverter, proprio quando la svolta sembrava all'orizzonte, con l'accordo trovato nella notte tra la proprietà e una società collegata a Grebul McLaren. Le carte adesso passano infatti al Tribunale di Milano. Quello a retino si è dichiarato incompetente a decidere sul futuro dell'azienda, trasmettendo tutte le carte sulla richiesta di concordato al Palazzo di Giustizia milanese, una decisione che si legherebbe ad un precedente passaggio di società tra ABB e FIMER che ha spostato la sede legale da Arezzo a Milano il 30 dicembre 2021. Nel provvedimento i judici a retini confermano poi l'esistenza del nuovo accordo tra FIMER e Grebul, ma dichiarano contemporaneamente l'inammissibilità dell'istanza, l'improcedibilità del concordato preventivo, disponendo l'estinzione del procedimento e la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa in merito al provvedimento volto alla dichiarazione di insolvenza, disponendo la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del procedimento unitario in favore del Tribunale milanese. Spetterà dunque ai giudici di Milano decidere se dichiarare l'insolvenza o concedere l'amministrazione straordinaria. Cresce così sempre più la preoccupazione e l'amarezza dei lavoratori che da due settimane stanno occupando l'azienda.